Nessuna polemica o attacco frontale ai vertici del CAS e il Consorzio Autostrade Siciliane, ma si vuole semplicemente ricordare che a rievocare questa infrastruttura dimenticata e abbandonata al suo inesorabile destino, sono state le federazioni sindacali del settore delle costruzioni della provincia di Caltanissetta, senza per questo volersi conferire alcuna paternità. Stiamo parlando dell'autostrada Siracusa-Gela. Giorni addietro si è svolto un incontro tra il presidente del CAS, Rosario Faraci, e i sindaci di Ragusa, Santa Croce e Camerina, Comiso, Acate, Vittoria, Rosolini e Gela per fare il punto sul completamento dell'asseviario, pensato e progettato circa 50 anni fa, quando si parlava di sviluppo per aree omogenee. L'iniziativa è stata lodevole, dicono Daltan di Dio, della Feneal Will, Francesco Iudici, della Filca Cisle e Francesco Cosca, della Fillea Cigelle. Un bel 10 in pagella sarebbe il minimo da assegnare per il compitino in classe, ma chiediamo, semplicemente, aggiungono i sindacalisti, di essere coinvolti nelle prossime iniziative, di essere convocati e partecipare ai tavoli negoziali. Senza voler essere secondi a nessuno, basta una ripassata veloce degli ultimi due anni per ricordare le iniziative intraprese. Nel marzo del 2014 si è svolta la manifestazione Ricolleghiamoci, seguita da un primo incontro al Comune di Gela, il mese dopo con la partecipazione del presidente del Consorzio Autostrade Siciliane. Nel novembre dello stesso anno, la seconda riunione in Comune, seguita dalla manifestazione Evitiamo la desertificazione dell'aprile 2015, che ha fatto tappa presso lo svincolo dell'autostrada Gela-Siracusa. Le federazioni sindacali vogliono essere parte attiva per il progetto di completamento, tanto che qualche settimana dietro è stato richiesto un incontro al sindaco di Gela, Domenico Messinese, che probabilmente, afflitto da mille altri problemi, non ha convocato il sindacato proprio sul tema della Gela-Siracusa. Le federazioni sindacali del settore delle costruzioni della provincia di Caltanissetta intendono lasciare il loro marchio di fabbrica al territorio con la realizzazione di un'opera strategica sotto l'aspetto dello sviluppo economico, industria, agricoltura, turismo e della viabilità, per non parlare della ricaduta occupazionale che interesserà le comunità del comprensorio, dai lavoratori edili a tutto l'indotto che solitamente circonda la realizzazione di un'infrastruttura, la cosiddetta funzione anticiclica del settore delle costruzioni. Siamo il territorio delle occasioni perdute. Siamo pronti, chiudono le sigle sindacali, ad attivare tutte le iniziative di lotta necessarie per il completamento dell'autostrada Gela-Siracusa.